Buongiorno a tutti. Mi fa piacere, devo dire, sono stupito anche con questo brutto tempo, siate così numerosi oggi a parlare di questo tema che indubbiamente è un tema abbastanza caldo, ci tocca sul vivo a tutti quanti e spero che alla fine di questo mio breve racconto possiate uscire fuori da questa stanza un pochettino più sereni, un pochettino più positivi riguardo al futuro e riguardo alle tematiche di cui vi parlerò. Ok, come ha detto Franco, io sono un docente informatico all'Università di Firenze, però ci tengo anche a dire che in questo momento sono un professore all'Università di Parigi 7, Parigi di De Rosso, sto cercando di fare questa esperienza dai nostri cugini e ora vedremo alla fine di questa esperienza che cosa poi deciderò, come deciderò di proseguire. Però ci tengo a dirlo perché più avanti riprenderò questo discorso, soprattutto rivolgendomi ai giovani presenti in questa stanza. Ok, cominciamo con dei dati, visto che si parla di big data, vi voglio mostrare i dati che si leggono molto male, ma che danno un'idea di quello che è successo negli ultimi anni con tre delle società tecnologiche più conosciute in questo momento al mondo. Ora, tutti i dati che io vi mostrerò sono tratti dal web, in particolare sono tratti da alcuni siti che sono sempre citati e alla fine di questo incontro vi dirò anche qualcosa riguardo all'affidabilità dei siti web da cui traiamo i dati. Comunque, questi in particolare sono tratti dal sito statista.com e sono dati relativi, come potete vedere, ad Amazon, a Facebook e a Google. In particolare queste sono le entrate di queste tre società negli ultimi anni. Come possiamo vedere da questi tre grafici è abbastanza evidente che queste società hanno avuto un'esplosione direi, ovviamente è difficile dirlo solamente da così pochi punti, ma potrebbe essere un'esplosione quasi esponenziale in termini di ricavi. Bene, come mai questo è successo? Beh, innanzitutto stiamo parlando di tre compagnie che non hanno avuto in realtà nessuna idea veramente geniale. Perché in fin dei conti Facebook che cosa ha fatto? Facebook ha messo in atto, in forma digitale, una cosa che esisteva già nella nostra società a livello umano, l'amicizia. Quindi Facebook quello che ha fatto è detto, ma facciamo, creiamo delle amicizie digitali. Quindi ha semplicemente preso l'idea delle amicizie e l'ha portata sul web. Google in fin dei conti ha fatto quello che noi facciamo da migliaia di anni, ovvero sia date dei libri, dei testi, fornire un indice di questi testi in modo da cercare velocemente le parole dentro il testo e poi dare anche un ordine a queste ricerche che vengono eseguite. Amazon ancora di più, Amazon in fin dei conti non ha fatto altro che mettere un negozio online con l'aggiunta di dire quello che noi chiamiamo il tipico passaparola. Cioè quando ci piace un prodotto, un libro, un film, che facciamo? Lo diciamo ai nostri amici, ai nostri amici a quel punto comprono il prodotto. Amazon in qualche modo ha applicato questo criterio del passaparola. In sostanza queste società non è che abbiano avuto idee geniali dal punto di vista della semantica dell'applicazione. Ma allora perché hanno avuto questa esplosione? Beh, semplicemente perché lavorando sul web, Amazon, Facebook, Google, hanno incominciato a lavorare con una quantità di utenti e quindi una quantità di dati gigantesca come non siamo mai stati in grado di affrontare. In alto possiamo vedere quanti prodotti, per esempio, in questo momento sono nel catalogo di Amazon. Stiamo parlando di 500, quasi 600 milioni di prodotti. Immaginatevi appunto un negozio con 600 milioni di prodotti, ovviamente, non c'è proprio modo di competere con dei numeri di questo tipo. Facebook, questo per esempio, sono il numero di utenti attivi giornalmente in uno specifico mese. E stiamo parlando alla fine di un miliardo e mezzo di utenti attivi. Un miliardo e mezzo di persone sono collegate su Facebook, si collegano su Facebook giornalmente, anche se so che per i giovani questa cosa sta calando. Facebook non è più hot. In questo momento c'è Instagram, che è molto hot, e probabilmente fra un anno non lo sarà nemmeno più, e anche un pochettino WhatsApp. Tra l'altro WhatsApp in realtà è Facebook. Noi sappiamo che Facebook ha acquistato WhatsApp garantendoci che non avrebbe mai associato i profili di WhatsApp e di Facebook. In realtà questa cosa poi è successa. Infine abbiamo Google. Google lavora con un numero di pagine, che come vedete, di siti web, che crescono veramente in modo esponenziale. Adesso siamo a 2 miliardi di pagine di siti web censiti. Quindi stiamo parlando di una quantità di dati che veramente è inimmaginabile. Sono i cosiddetti big data, in realtà li chiamerei huge data, perché veramente stiamo parlando di cifre che non ci aspettavamo. E allora, ma com'è possibile che Google, Amazon, Facebook, Netflix siano in grado di gestire queste quantità di dati? Beh, ovviamente la risposta è c'hanno il calcolatore, bella forza. Il calcolatore è molto più veloce di noi. Ma non è solo questo, perché se il calcolatore noi lo usassimo, come l'abbiamo usato diciamo quando io ero studente di dottorato, quindi alla fine degli anni 80, all'inizio degli anni 90, queste cose non sarebbero possibili. In realtà, quello che è successo è che negli ultimi anni questa crescita esplosiva di dati ha stimolato noi informatici, quindi se volete potete dare in effetti la colpa a noi informatici di quello che sta succedendo, però ci ha stimolato a sviluppare metodi algoritmici, e badate, uso la parola algoritmo, e per me l'algoritmo è bellissimo. Quando leggo sul giornale è tutta colpa dell'algoritmo, è come se mi colpissero al cuore, perché dico no, non è possibile essere colpa dell'algoritmo, ovviamente. Probabilmente è colpa di chi l'algoritmo l'ha poi implementato in un programma, oppure è colpa di chi usa l'algoritmo che era previsto per fare qualcosa, per fare qualcos'altro. E invece quello che noi in realtà abbiamo fatto, come informatici in tutto il mondo, è quello di fornire tecniche algoritmiche che consentissero di gestire moli di dati così gigantesche. Vi voglio solo fare un esempio che probabilmente è legato a qualcosa che forse qualcuno di voi conosce. Probabilmente avete sentito parlare, se non altro, del film o della commedia che si chiama 6 gradi di separazione. Tutto ciò nasce da un esperimento di un psicologo Milgram, il quale decise di stimare la distanza media fra due americani negli anni 60. Americani intendo degli Stati Uniti d'America. fece un esperimento abbastanza semplice dal quale dedusse che in media la distanza in termini di conoscenze tra due americani qualunque negli Stati Uniti d'America è circa 6. L'esperimento che fece Milgram fu abbastanza semplice, non richiedeva tecnologie sviluppate in modo particolare, tuttavia, pochi anni fa, 6 anni fa all'incirca, dei ricercatori di Facebook e dei ricercatori di Milano hanno detto ma cosa succede se questo esperimento lo facciamo su Facebook? Dove già c'era un miliardo di persone. Uno si aspetta che con un miliardo di persone il numero di... la distanza che c'è fra due persone in termini di strette di mano sia un po' di più di 6 in fin dei conti stiamo parlando di un miliardo di persone. Invece, grazie a degli algoritmi estremamente sofisticati e delle tecniche estremamente veloci in pochissime ore questi ricercatori verificarono che la distanza era addirittura diminuita. La rete ci avvicina in termini di contatti che abbiamo fra di noi. Ora mi potete dire ma su Facebook i miei 300 amici non sono veri amici sono solo delle persone che mi hanno chiesto l'amicizia e io gli ho cliccato di sì però ciò non toglie che la società di Facebook è una società di amicizie digitale e quindi è una società più piccola ancora di quello che è il mondo reale. Questo solo per dire che questo è stato possibile farlo su un miliardo di utenti e diversi miliardi di amicizie fra questi utenti in poche ore. Quindi questo è stato un pochettino la linea di sviluppo nell'informatica che ha portato queste società a utilizzare quelle moli di dati che vi ho fatto vedere prima. ora d'altra parte queste società hanno quindi potuto gestire una quantità di dati gigantesca in tempi eccellenti. In qualche modo è un po' come se a un certo punto nel secolo scorso se non prima a un certo punto ci fosse stata la possibilità di accedere a pozzi di petrolio infiniti con trivelle velocissime. E in effetti quello che vi sto mostrando è un'analogia fra la crescita della produzione del petrolio dal 1930 al 2020 e guardate l'inizio l'inizio ricorda tantissimo i tre grafici che vi ho fatto vedere di crescita di Amazon Facebook e Google e l'analogia non sono io a farlo ovviamente per primo è proprio quella che i dati sono diventati il nuovo petrolio e la differenza è probabile che a un certo punto anche i grafici di Google Facebook e Amazon abbiano come la produzione del petrolio incominci ovviamente a piattirsi se non altro perché gli esseri umani sulla terra in questo momento sono circa 6 miliardi quindi più di tanto non si può andare in termini di dati però ciò non toglie che siamo ancora in una fase di crescita esponenziale e veramente c'è una grossa analogia fra le società tecnologiche che prendono i dati da dove sia possibile prenderli e attraverso questi dati forniscono servizi che fanno sì che poi grazie soprattutto alla pubblicità perché le entrate di queste società sono soprattutto pubblicità grazie alle pubblicità riescono a aumentare i loro incassi in questo modo esponenziale d'altra parte come dicevo noi quello che facciamo è usare i servizi di queste società e ora io non so a voi però potete adesso immaginare la vita senza google io sinceramente non ce la faccio io qualunque cosa mi viene chiesto che non conosco qualunque curiosità devo dire la verità la prima cosa che faccio o sul telefonino o sul computer devo senti fammi googlare un attimo tant'è vero che credo che googlare sia entrato addirittura nel dizionario italiano della Zanichelli oppure possiamo immaginare in questo momento di non usare un'applicazione come Whatsapp mi sembra veramente molto difficile che in questo momento ci dicano non c'è più Whatsapp badate che tutto ciò cambierà e tant'è vero che recentemente non mi ricordo se un il CEO della Microsoft forse della Microsoft ha detto che i cellulari spariranno ed è molto probabile perché effettivamente non abbiamo più bisogno fra non molto non avremo più bisogno di digitare qualcosa o di leggere ci verrà letto ci verrà mostrato sugli occhi non so quanti di voi hanno visto Black Mirror una serie televisiva che appunto sta su Netflix e che parla di questo futuro distopico in cui tutti la cosa standard è che i nostri occhi hanno dei piccoli chip che ci permettono di registrare di interpretare e di trasformare quello che vediamo in informazioni elaborate oppure devo dire io per esempio da quando ho scoperto Netflix è successo tipo mi sembra due anni fa adesso la vedo dura stare senza Netflix perché devo dire ha dei film per me di ottima qualità c'ha anche tantissimi film che non vedrei mai in vita mia però c'ha dei film di ottima qualità e devo dire la sera quando sto magari da solo mi fa di passare due ore piacevoli la vedo dura a farlo senza uno strumento come Netflix chiaramente potrei parlare di Google Film oppure potrei parlare di altre applicazioni di questo tipo quindi tutti questi servizi in qualche modo sono ormai parte integrante della nostra vita e mi sembra molto difficile che possiamo decidere di rinunciarci però è anche vero e questo è il problema che ci si pone è anche vero che questi servizi non sono veramente gratis ora a parte Netflix non è proprio gratis Netflix si paga 10 euro al mese però se ci pensate 10 euro al mese uno vede magari anche 10 film insomma stiamo pagando un euro per un film invece che magari pagarne 8 per andare al cinema anche se devo dire la verità non c'è confronto non c'è confronto lo dico ai giovani non c'è confronto tra vedere il film con uno schermo grande al cinema e vederlo su uno schermino anche così al computer veramente non c'è confronto e vorrei che i giovani ritornassero al cinema solo per il piacere di vedere il film su questo grande schermo però io ho parlato di 10 film al mese gli altri 20 si va al cinema gli altri 20 giorni allora però per esempio quindi a parte Netflix ma Google è gratis i consigli di Amazon sono gratis il Whatsapp è gratis anche se ci ha provato a farci pagare un certo periodo ma poi erano bufole non si capiva se era vero o non era vero ma comunque sono tutte applicazioni gratuite ma sono veramente gratuite? beh ovviamente no tutti questi servizi li paghiamo li paghiamo con una moneta di cui non ci rendiamo veramente conto del cui valore non ci rendiamo veramente conto perché è una moneta che non ci costa tanto in fin dei conti ovvero sia sono i nostri dati il nostro modo di agire ma non i nostri dati in termini di Pierluigi Crescenzi perché ormai questi dati ce l'hanno ce l'hanno sempre nel momento in cui ci chiedono di riempire una forma per iscriversi al servizio Gmail ci chiede nome e cognome non sono questi dati che noi diamo i dati che noi diamo a questi servizi sono le nostre abitudini le nostre idee sono i nostri desideri per esempio se io l'ho provato ieri questo per essere sicuro che ancora funzionasse come esempio se io cerco su una compagnia che conoscete probabilmente perché è una delle poche compagnie che volano a Firenze se io cerco sul sito della Welling un volo da Parigi Orlì a Praga ok lo cerco ho fatto la ricerca non vi dico qual è il risultato però se poi subito dopo io vado su un sito no nemmeno su Facebook ma vado su un sito di notizie come per esempio Lanza che io uso quotidianamente un altro servizio gratuito e lo uso devo dire molto mi capita almeno 3-4 volte al giorno di guardare le notizie dell'Anza però guardate a destra Welling da Parigi a Praga non sarà mica una coincidenza no? ovviamente certo non mi danno solo da Parigi a Praga perché mi danno anche da Firenze a Barcellona ma perché? perché lo confesso ho viaggiato molto mi danno Firenze a Parigi perché ho viaggiato molto Firenze a Parigi e ho viaggiato anche per un certo tempo tanto Firenze a Barcellona quindi ovviamente mi stanno dando delle pubblicità guardate che questa cosa non è tanto recente perché quando Gmail si è diffusa e ora non succede più non ne ha più bisogno ma all'epoca per avere incassi dal punto di vista delle pubblicità quando si leggeva una mail sulla destra apparivano delle pubblicità queste pubblicità erano veramente fortemente collegate al contenuto del messaggio che stavo leggendo quindi se io per esempio avevo un messaggio del tipo che parlava di università mi arrivava la pubblicità di iscrizione a due tre università di pubblicità Google rispose dicendo ma non siamo noi che le leggiamo certo lo spero bene che non sono degli esseri umani che si mettono lì a leggere la mail e poi scrivono la pubblicità immediatamente accanto chiaramente sono dei programmi che fanno questo e quindi la giustificazione di Google fu un po' debole all'epoca tuttavia questo è da tanti anni che succede io devo dire la verità e su questo tornerò alla fine mi sono abituato a ignorare la colonna di destra non la guardo proprio il mio ormai la mia attenzione è focalizzata sulla colonna centrale anche se a sinistra qualche volta ci sono delle notizie un pochettino più interessanti quindi è proprio un'abitudine che mi sono preso va bene questa è pubblicità lo capisco mi fornisco un servizio gratuito in qualche modo devono guadagnare allora il punto è questi servizi li vogliamo però abbiamo queste conseguenze ma il problema è che recentemente c'è stato anche un problema più grosso che è qui riassunto in quattro bellissime figure che potete poi vedere con più calma da questo sito vox.com e questo è stato forse uno scandalo più grosso ammesso che sia vero ammesso che sia vero allora quello che certamente è vero e qui adesso parliamo invece di facebook quello che è certamente vero è che dentro facebook c'era una falla che ha consentito a una app di test psicologico che era stato usato da solo quasi 300.000 utenti quindi un numero limitato di utenti ha consentito però agli sviluppatori di questa app grazie a una falla di facebook di accedere agli amici di questi utenti ora badate che se io parlo di 300.000 utenti su facebook e parlo degli amici di 300.000 utenti vado su un ordine di grandezza molto molto superiore è chiaro? tanto è vero che la falla ha permesso di avere una cosa come ora le cifre non sono ben chiare però diciamo 80 milioni di utenti facebook nessuno sa esattamente quali sono le cifre di questo scandalo che probabilmente conoscete come lo scandalo di Cambridge analitica e grazie ai dati su facebook di 80 milioni sembrerebbe che una società che in realtà è la SCL Group che ha detto guardate io con questi dati riesco a capire il profilo psicologico delle persone e quindi riesco a fare pubblicità mirate a scopo elettorale e grazie a questo potrebbe sembrare che effettivamente per esempio abbiano mandato pubblicità per esempio di messaggi relativi a dichiarazioni di un candidato relative a persone di colore dichiarazioni negative di un candidato relative a persone di colore a persone di colore quindi spingendo queste persone che ricevevano questi messaggi a non votare quel candidato e quindi o a non votare che è stato il grosso problema che c'è stato in America nelle ultime elezioni o a votare addirittura per l'altro candidato ok quindi questo è stato uno scandalo un po' più grosso un pochettino più significativo anche se ripeto qui io non metterei la mano sul fuoco sul fatto che ciò abbia veramente influenzato le elezioni negli Stati Uniti d'America non sto dicendo che Trump è stato eletto per questo però questo è quello che sicuramente è successo è che Facebook a causa di questa falla ha consentito l'accesso ai dati di diversi milioni di utenti e allora il punto è ok da un lato abbiamo dei servizi di cui non possiamo più fare a meno io personalmente non riesco più a farne a meno dall'altra abbiamo questi rischi così grossi che se sono veramente veri ci preoccupano ci dovrebbero almeno preoccupare e allora permettetemi in francese di dire come facciamo a in francese ti dice avere il burro e i soldi per comprarlo in italiano noi abbiamo un modo di dire che però non ripeto in quest'aula perché è e sono perfettamente d'accordo è decisamente politicamente scorretto potete immaginare qual è l'analogo in italiano di avere il burro e i soldi per comprarlo in americano si dice ed è il titolo della conferenza mangiare la torta e conservarla e tenercela da parte in italiano abbiamo un altro modo che però devo dire a me non piace più tanto e e il punto è questo come possiamo continuare a usufruire i servizi ma allo stesso tempo non esporci a queste manipolazioni dei dati è possibile e se è possibile come possiamo farlo beh il messaggio che vi voglio dare nei rimanenti dieci minuti circa mi sembra Franco giusto? anche di più ok benissimo e che probabilmente questa cosa è possibile e probabilmente io sono qui c'è una mia collega in aula con cui facciamo delle grandi litigate perché io sono estremamente positivo lei invece è estremamente no estremamente diciamo è spesso molto più negativa quindi facciamo delle lunghe discussioni sul fatto no per me il futuro sarà molto più bello di quello che possiamo immaginare infatti sono sempre anche se capisco che nessuno potrebbe scrivere un bel romanzo su un futuro utopico immaginatevi che noia un romanzo in cui viene descritto un futuro utopico tutto va bene che dico dopo una pagina ho detto tutto va bene ho finito non devo dire altro invece un romanzo su un futuro distopico posso scrivere 1984 posso scrivere Blade Runner e così via ovviamente è abbastanza più facile ma se il futuro è utopico c'è poco da dire ovviamente tutto va bene però io credo che se vogliamo che questo futuro non sia così distopico come ci viene descritto da romanzi film e serie tv dobbiamo trovare questa sinergia tra le tre componenti che vedete qui rappresentate ovvero sia fra gli stati tra la tecnologia e quindi ingegneri informatici scienziati la tecnologia in generale e il cittadino io credo che sia essenziale trovare questa collaborazione di comportamenti che faccia sì che poi alla fine riusciremo forse ad avere il burro e a tenere i soldi per comprarlo e incominciamo ma dallo Stato e per me sinceramente lo Stato è l'Europa lasciatemi aprire una parentesi che non ha nulla a che vedere con il tema di questa conferenza io come immagino anche molti di voi che vedo qui in quest'aula sono cresciuto con il sogno europeo mi ricordo nelle aule alle elementari ci dicevano che avremmo parlato l'esperanto e che sarebbe stato questo bellissimo paese l'Europa tutti uniti e tutti insieme verso un futuro migliore e io ci sono cresciuto con questo sogno e sinceramente penso di stare vivendolo è uno dei pochi casi in cui sento che un sogno che ho avuto da giovane si è realizzato in tempi anche brevi se ci pensate perché da dopo la guerra in pochi anni siamo riusciti a creare una comunità europea per me questo è veramente un sogno che si è realizzato quello che ho la sensazione è che i più giovani e nemmeno tanto più giovani non hanno vissuto questo sogno come un sogno l'hanno vissuto già come realtà e come realtà ne vivono soprattutto gli aspetti più negativi e io quello che penso che sia importante dire ai giovani e non tanto più giovani anche un po' solo poco più giovani è che l'Europa non è solamente i vincoli che ci impone dal punto di vista economico che secondo me devono esserci come ci sono in qualunque famiglia non c'è verso non posso dire a mia figlia spendi quello che ti pare perché dopo un anno non avrei più soldi per pagare l'università quindi sono giusti e si possono discutere e si devono mettere accordo ma l'Europa non è solo questo anzi questa è una piccola parte dell'Europa l'Europa è tutt'altro l'Europa è veramente un insieme di intelligenze politiche scientifiche letterarie che fa sì che siano in grado di produrre delle cose assolutamente innovative e un esempio di questo secondo me è il regolamento per la protezione dei dati non perché il testo di questo regolamento sia perfetto assolutamente è un testo complesso non facile da capire e sicuramente migliorabile ma è l'espressione di come gli stati europei si sono posti da molto prima di tanti altri stati il problema della protezione dei nostri dati sin dal 2012 gli stati europei la comunità europea ha incominciato a lavorare su questo problema capendo che se noi cittadini perdiamo la fiducia nella tecnologia e nella nella rete diciamo digitale beh questo ha delle conseguenze può avere delle conseguenze estremamente negative ma per avere fiducia nella rete dobbiamo garantire ai cittadini la sicurezza e la protezione dei loro dati ripeto questo testo non è facilissimo ma fondamentalmente ha dei principi molto semplici in realtà sono alcuni enunciati da subito il principio del diritto alla cancellazione dei dati il diritto all'inizio c'era il diritto all'oblio addirittura ma è stato un pochettino modificato questo perché in effetti non è facile essere cancellati dalla rete essere dimenticati dalla rete io invidio le persone che cerco sul web e non trovo una fotografia le invidio perché devo dire non è così facile quindi l'oblio non è così semplice da realizzare e altri diritti tipo il diritto di portarli da un servizio a un altro il diritto di verificare che cosa ne stanno facendo sono tutti diritti che come ha detto un mio collega di ingegneria Enrico Del Re è scritto in un articolo in un'agenda digitale sono diritti che probabilmente andrebbero nella carta ai diritti umani oramai perché viviamo in una società digitale e sono diritti a cui abbiamo diritto effettivamente dall'altro lato un altro principio per esempio molto semplice è che che il GDPR dice è che questi diritti devono fare parte della progettazione delle applicazioni che queste società fanno non devono essere dati dopo ma nel momento di progettazione del software devono avere in testa che questi diritti devono essere rispettati quindi guardate questo non sembrerebbe e probabilmente tutti avete pensato ancora un altro messaggio del GDPR oddio ancora mi stanno chiedendo l'ok e così via è vero infatti non sto dicendo che questa è la perfezione ma questo è veramente rivoluzionario se andate fuori dall'Europa queste cose non le trovate ancora non in questi termini quindi ringraziamo lo Stato europeo ringraziamo i governanti europei perché hanno anche considerato questo problema lo capisco che sui giornali si parla solo di un aspetto ma mi piacerebbe tanto che i giornali ogni tanto dicessero ah però l'Europa ha fatto questo al governo europeo ha fatto questa legge qui ci ha permesso di garantire dei diritti per esempio a persone disabili o cose di questo tipo mi piacerebbe che i giornali compensassero sempre con notizie di questo tipo questo è dal punto di vista quindi della legislazione gli stati devono fare questo e questo è il loro compito fare leggi che ci garantiscano dal punto di vista della protezione dei dati dal punto di vista tecnologico noi possiamo fare tanto ora questo è un esempio però forse qui non mi allungo troppo perché sennò vado fuori dei tempi però questa è un'idea abbastanza futurista anche questa me l'ha suggerita il mio collega Enrico Derre di avere dei dati che si autoproteggono e questo significa trovare delle combinazioni di software e hardware che ci permettano di avere dei dati che sono trasmettibili in forma solo cifrata e solamente macchine quindi stiamo parlando di hardware in grado di decifrare e di vedere se hanno diritto a leggere quei dati possono leggere i dati è una combinazione di hardware e di software veramente un pochettino futurista però non so quanto siamo lontani dal poterla realizzare più vicino è invece un altro aspetto sempre tecnologico ed è l'uso dell'intelligenza artificiale ora va bene chiaramente tutti voi sentite parlare dell'intelligenza artificiale in questo periodo di deep learning e cose di questo tipo e soprattutto si sente parlare oddio ma come faremo saremo dominati dall'intelligenza artificiale le macchine saranno guidate solo dall'intelligenza artificiale e così via generalmente di nuovo si ha un aspetto si ha una visione distopica del futuro bene gli informatici non è che non ci pongano questo problema ovviamente perché noi informatici siamo esseri umani e come esseri umani ci poniamo questo problema certo abbiamo stiamo sviluppando degli strumenti di intelligenza artificiale estremamente potenti uno dei problemi e vengono usati anche per l'analisi dei dati quindi io sono sicuro che Google Amazon Netflix e chi altro sta usando in questo momento dei sistemi di intelligenza artificiale come per esempio anche Google Translate per dire ormai sta usando sistemi di intelligenza artificiale ora il problema di tutti questi sistemi di intelligenza artificiale è che se qualcosa non va bene se qualcosa va storto si ha un po' di difficoltà a dire perché questi sistemi in realtà sono dei sistemi che vengono addestrati ma una volta addestrati non sappiamo perché abbiano deciso di prendere una decisione o di prenderne un'altra quindi una macchina il tipico esempio che si fa è la macchina che di fronte a una persona tipicamente ora non voglio diciamo non voglio diciamo essere però questo è un esempio di fronte a una persona di fronte anziana e un bambino a sinistra una macchina cosa deve fare non riuscendo a frenare sapendo che non può frenare che scelta deve fare? ora questo è un problema etico ovviamente e molto importante ma il problema è che in questo momento le macchine sono spesso guidate da sistemi di intelligenza artificiale ora ammettendo che faccia una scelta invece che un'altra e non essendo d'accordo con questa scelta dobbiamo avere la possibilità di chiedere alla macchina ma perché hai fatto questa scelta? e la macchina deve essere in grado di dirmi l'ho fatta perché bla 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 in questo momento questo è un pochettino più difficile anche se incominciano a esserci dei sistemi che si chiamano di intelligenza artificiale spiegabile explicable AI in cui alla fine quello che succederà è che quando la macchina ci dice questo è un gatto riconosce un gatto ci dice anche perché secondo lei è un gatto è un gatto perché per esempio ha i baffi gli occhi da gatto insomma e così via ok? quindi si sta lavorando tanto su questo veramente tanto è un'area di ricerca estremamente calda perché ci stiamo rendendo conto che è qualcosa che ci verrà chiesto ok? ultimo è il cittadino quindi questo per dire gli stati devono fare le leggi per proteggerci la tecnologia deve sviluppare più possibile tecnologie che ci aiutino a proteggerci da quelle che possono essere le conseguenze negative cosa dobbiamo fare noi? beh noi fondamentalmente dobbiamo fare un uso responsabile di questi servizi allora io non so dire un uso responsabile cosa sia certamente i dati li dobbiamo donare a chi ci offre un servizio perché se poi quel servizio lo usiamo in modo malevolo dobbiamo essere rintracciabili cosa voglia dire essere responsabile nell'uso di questi servizi non è così facile però vi voglio fare un esempio che di nuovo ho scoperto da non tanto tempo proprio in Francia e che è un servizio offerto da Le Monde che è un giornale abbastanza conosciuto francese in realtà forse noi qui in Italia conosciamo più Le Monde Diplomatique ma insomma Le Monde è uno dei giornali più diffusi in Francia e che cosa ha fatto Le Monde? ha creato un sito web dove noi possiamo in qualche modo verificare la affidabilità dei siti da cui provengono delle notizie quindi per esempio prima si diceva che durante la campagna negli Stati Uniti d'America erano state diffuse notizie su dichiarazioni di un candidato riguardo a persone di colore beh l'uso responsabile di un cittadino è quello di dire ok ho ricevuto questa informazione mi dice che l'ha data questo sito ma questo sito è affidabile o non è affidabile devo dargli ragione o non devo dargli confidenza o no ora ovviamente questo è un primo approccio è un primo risultato però per esempio The Codex se io gli chiedo ma questo sito che si chiama Doctissimo è affidabile o non è affidabile lui ci spiega che cos'è questo sito e poi ci dice guarda non esitare a diffondere le notizie di questo sito perché secondo noi sono estremamente affidabili oppure se gliene chiedo un altro e badate questo è solo il risultato io non sto giudicando i siti che sto facendo l'esempio sto solo dicendo quello che fa il servizio di Le Monde se gliene do un altro che si chiama Egalité et Réconsidiation e lui ci dice è un sito di militanti nazionalisti rivoluzionari e poi dice state attenti perché tantissime false informazioni sono state diffuse da questo sito ora chiaramente ci fidiamo di Le Monde non lo so possiamo dire ok non ho provato a fare Le Monde a fare una specie di autoreferenzialità in effetti questo non l'ho provato sarebbe interessante immagino che si valuti bene spero spero che si valuti bene però questo è per esempio un uso responsabile delle servizi che ci vengono dati ci arriva una notizia non crediamo a questa notizia ciecamente ma era vero anche prima quando le notizie ci arrivavano non so quanti di voi sono stati coinvolti in quella famosa catena di Sant'Antonio in cui ci dicevano se tu dai 10 euro a 10 se mi dai 10 euro e poi mandi questo messaggio a altre 10 persone alla fine diventerai milionario io non ci ho mai creduto i 10 euro a chi me lo diceva non glielo ho mai dati perché ho detto ma non sono mai diventato un milionario questo è vero ma non ho nemmeno mai conosciuto una persona che si è diventata milionaria con questo sistema quindi se lo facevamo su queste cose più terra terra perché non farle su questi servizi che hanno delle informazioni molto più importanti e quindi l'uso secondo me responsabile è questo certo in questo di nuovo la tecnologia ci aiuta chiaramente qua dietro c'è una tecnologia che consente ma c'è anche il lavoro di esseri umani che verificano l'affidabilità delle notizie che appaiono su questi siti quindi c'è questa collaborazione tra tecnologia ed essere umano insomma per concludere io credo che questa sinergia tra Stato cittadino e tecnologia intesa in senso molto largo possa veramente darci la possibilità di vivere questa situazione con più tranquillità e veramente di avere il burro e allo stesso tempo tenerci anche i soldi per comprarlo io sono molto ottimista da questo punto di vista ma credo che dobbiamo incominciare a ragionarci ora e vorrei finire con questa citazione di Gandhi per dire che quello che sarà il nostro futuro dipende da quello che facciamo ora ed è il momento di agire ora perché in questo momento è il momento in cui tutti noi dobbiamo e soprattutto i giovani devono darsi da fare per creare questo futuro che sia utopico e non necessariamente distopico ok spero che vi sia interessato tutto ciò grazie grazie mille Pierluigi e come al solito diamo precedenza alle domande arrivate per whatsapp e per messaggi ce ne sono abbastanza interessanti allora la prima domanda è ma ora che c'è l'internet of things nel senso che a questo punto praticamente le entità non sono più solo umani ma qualsiasi oggetto prende dati e mi immagino che il numero di dati esploderà ancora di più è quasi un'affermazione ovviamente sì quello che succederà con dovrebbe arrivare fra non molto il sistema 5G che dovrebbe consentirci di mettere in piedi veramente questa chiamata all'internet of things ora io devo dire la verità non sono nemmeno così favorevole ad usare sempre termini inglesi in fin dei conti è l'internet delle cose orribile forse ma non vedo perché dobbiamo per forza usare l'acronimo inglese cosa vuol dire in realtà all'internet delle cose vuol dire che fra non molto ma era quello che dicevo anche prima non avremo più bisogno veramente del cellulare noi avremo dei sensori sui vestiti o dei sensori nelle orecchie o dei sensori vicino all'occhio o addirittura sull'occhio che ci consentiranno di avere di trasmettere e di ricevere una quantità dei dati ancora più grande non c'è ombra di dubbio infatti quando ho detto chi lo sa forse il grafico di queste società si appiattirà prima o poi non è così sicuro che succeda tanto presto perché effettivamente adesso ci sarà un'ulteriore esplosione di dati dovuti a tutti questi dati che non sono più dati che noi forniamo perché volontariamente li stiamo fornendo ma semplicemente perché camminando per strada per esempio stiamo dando il messaggio guardate c'è un ingorgo in via Viale Morgagni dove effettivamente c'è stato l'ingorgo per diverso tempo quindi non avevamo bisogno di un sensore per capire che c'era l'ingorgo in Viale Morgagni però è giusta come osservazione e ancora di più quindi questo richiede attenzione adesso in questo momento prima che il 5G arrivi a questi aspetti l'altra domanda è ma hai parlato di Google hai parlato di Facebook ma esistono delle alternative più etiche più rispettose più trasparenti? passi alla prossima no allora su questo però io devo dire una cosa ora Facebook è chiaramente un'applicazione particolare sta subendo ha subito un calo ma è ancora un'applicazione abbastanza importante Google sinceramente sì probabilmente ci sono chiaramente delle alternative rispetto al motore di ricerca di Google tra l'altro una cosa interessante di Google recentemente mi è capitato di vedere quello che si chiama Shmugol che è un sito dove le risposte di Google vengono rifornite in modo casuale quindi loro prendono per esempio le prime 100 le prime 1000 risposte di Google e poi ce le ridanno in modo casuale qual è la motivazione? la motivazione è che così ci spingono a ragionare di più perché se mi ridate in modo casuale sono costretto a leggerle con più attenzione queste cose noi tipicamente io che faccio cerco la prima risposta di Google ci clicco se va bene mi dà la risposta mi sento fortunato esatto appunto esatto ora però il punto è questo è che forse ci sono delle alternative però ormai Google si è imposto come motore di ricerca io la vedo molto molto dura di riuscire a trovare un'alternativa un po' come internet internet è nato in modo un pochettino anarchico nel frattempo gli scienziati stavano mettendo in piedi tutta una struttura molto rigida di come dovrebbe essere stata internet ma alla fine non ci sono riusciti a imporre questa struttura perché nel frattempo internet si era diffusa ed era veramente difficile cambiare le cose e su Google penso che sia un pochettino la stessa cosa sulle altre applicazioni non sono così convinto secondo me Whatsapp sparirà perché noi non ci trasmetteremo più messaggi ma ci parleremo direttamente per voce come al telefono solo che non avremo più bisogno di un telefono per quanto riguarda Instagram pure probabilmente la ricerca dell'informazione non sono così sicuro che ci saranno tante alternative nel futuro siamo collegati a questo e comunque io non ho mai detto che eticamente Google non sia la domanda è collegata a questa c'è un futuro per Wikipedia o servizi simili in cui la gente attivamente collabora attivamente lavora ma no certamente questa è una buona domanda e sono convinto che questa è parte del nostro futuro a cui dobbiamo pensare Wikipedia per esempio nel sito di Le Monde The Codex è considerato un sito affidabile lo considerano un sito affidabile e non c'è un brai dubbio per ora Wikipedia sta comportandosi molto bene molto bene ed è per questo che io poi sono anche ottimista perché Wikipedia è proprio il classico esempio in cui si dimostra che la sinergia fra tecnologia e cittadino funziona perfettamente certo se poi ci sarà bisogno anche che lo Stato ci protegga da eventuali malintenzionati chiederemo anche allo Stato di farlo ma in questo momento questo spirito collaborativo di Wikipedia ha funzionato veramente bene sta funzionando veramente bene e confido che questo dovrebbe essere l'approccio anche in altri settori non solo enciclopedici poi c'è tutta una serie di domande che sto cercando di mettere insieme che riguardano appunto il senso critico degli utenti le truffe in rete influence followers oppure se si può invece fare il contrario usare questa influenza per educare meglio i cittadini o se è un programma un po' distopio perché poi alla fine ovvero in tutto questo qui che si collega scusate vi dico due parole anche a quello che dicevi prima cioè quello avere il senso critico secondo me io consiglierei anche di rileggere un vecchio classico che è il saggio di Kahneman su pensieri veloci e lenti perché noi siamo mostruosamente influenzabili e bisogna proprio imparare a disciplinarsi non solo in rete non so se vuoi commentare qualche cosa ma io credo che su questo non l'ho detto prima ma in realtà avrei voluto dirlo quando parlo di uso responsabile da parte del cittadino di questi servizi quello che mi immagino e qui parlo di sinergia con lo Stato è che ci deve essere un servizio di educazione un'educazione all'uso responsabile di questa tecnologia digitale mi rifaccio di nuovo a quando ero giovane io a scuola ci insegnavo un'educazione civica ed era devo dire all'epoca si diceva vabbè tanto non conta niente nell'esame che la faccia fare sì vabbè mi fanno leggere qualche articolo della Costituzione ma tanto non me lo chiederanno mai all'esame quindi che lo faccia fare e così via ora devo dire mi rendo conto che quelle piccole brevi lezioni di educazione civica hanno creato una persona che sono io che secondo me è civicamente accertabile quantomeno è quantomeno civicamente accertabile ora che io sappia educazione civica se ne fa veramente poca invece forse è il tempo di riprendere questo e di integrarlo proprio con un'educazione civica digitale perché si deve adattare alla situazione che è quella di oggi quindi mi piacerebbe tanto che un governo perché non è solo il nostro governo decidesse di investire nell'educazione dicendo anche dobbiamo anche investire nell'educazione civica digitale dei nostri ragazzi perché così useranno bene i servizi che gli vengono forniti un altro paio di domande invece riguardano diciamo un po' più l'ambiente la salute cioè uno dice vabbè con tutti questi sensori addosso ci saranno conseguenze sulla salute mentre un altro dice beh qual è l'equivalente visto che si è fatto l'analogia con il petrolio qual è l'equivalente dell'inquinamento che ci ha partato il petrolio nel caso di queste miniere di dati certo questo è un tema molto caldo anche tutti voi conoscerete quantomeno perché ne avete sentito parlare la moneta virtuale il bitcoin ed è stimato che il consumo energetico di una transazione in bitcoin è pazzesco è incomparabile rispetto al consumo che avrebbe se lo facessimo con una moneta reale magari andando in banca e facendo la transazione questa è un'ottima domanda però sinceramente su questo io non saprei dare una risposta quello che posso dire è che fra le tante cose che gli informatici stanno in questo periodo occupando c'è anche quello che si chiama green computing e il green computing si pone proprio come problema principale quello di come possiamo avere tutto ciò senza distruggere le risorse a nostra disposizione però sinceramente più di questo non so dire perché non è un campo in cui ho lavorato abbastanza poterne parlare in modo approfondito appunto poi c'è la domanda invece sulle antenne i sensori ci sono conseguenze da tutto e boh forse non ci vuole un informatico questo ovviamente dovremmo chiederlo sì a qualcuno più d'altra parte quante volte ci hanno detto quando avevamo i telefonini guardate che vi fa diventare non so che c'avea delle radiazioni ora io devo dire la verità non lo so dire forse posso dire la parola come fisico vai diciamo perché spesso e volentieri gli amici mi domandano ma wireless in casa sarà meglio spenderla la notte no il bluetooth ora diciamo io faccio un conto molto semplice l'internet si ferma dopo un muro praticamente in casa mia ho dovuto mettere tre ripite perché ho poi le mura vecchie grosse bluetooth da qui a lì non arriva il telefonino si collega a un'antenna lontana a tre chilometri è passata attraverso muri e tutto il resto quindi diciamo così da fisico direi e inoltre sono le frequenze giuste del forno a microonde più o meno sono quelle lì ecco se dovete spingere qualche cosa la sera non è wireless ma è il telefonino di sicuro oppure ecco quello è il sicuro e poi il telefonino lo teniamo qui quantomeno è wireless sta a parecchi metri di distanza ecco da questo punto di vista devo dire che facendo proprio un conto così della selva comunque andiamo avanti e questo si collega anche al discorso di nuovo ci deve essere questa sinergia fra queste tre componenti dove questa volta il tecnologo non è l'informatico il tecnologo può essere il fisico il medico che deve chiaramente lavorare per innanzitutto capire se ci sono queste conseguenze e eventualmente cercare soluzioni che abbiano quanto meno conseguenze minori a questo punto faccio anche io una domanda hai parlato appunto che queste reti neurali questa intelligenza artificiale è difficile da analizzare ma forse a questo punto ci vorrebbero le tecniche che si usano ormai da tanti anni per analizzare gli umani cioè la Susan Calvin la robot psicologa cioè usare altri sistemi per capire come funzionano le macchine eh questo probabilmente è una strada possibile però magari lo psicologo sarà una macchina a sua volta ovviamente diciamo che in questo io penso che l'opportunità che abbiamo è che essendo in questo momento in grado di produrre dei prodotti tra virgolette intelligenti essendo all'inizio della progettazione di questa produzione e secondo me in questo momento che dobbiamo subito porci il problema ok voglio produrre questi prodotti ma voglio anche che mi sappiano spiegare meglio di come fanno gli umani io certe volte non so dire perché ho fatto una scelta molto spesso sì ma certe volte non so dire perché ho svoltato a destra invece che svoltare a sinistra metaforicamente e quello che mi aspetto è che invece usando queste tecnologie riusciremo a avere quasi sempre una risposta di questo tipo poi certo sì più avanti probabilmente beh l'ultimo Blade Runner in effetti se non mi sbaglio lui va dallo psicologo e quindi effettivamente è quello che dici te probabilmente in un futuro succederà che le macchine artificiali le intelligenze artificiali dovranno andare da uno psicologo che poi sia uno psicologo artificiale è un psicologo naturale questo non lo so comunque per finire qui diciamo il nostro pubblico vuole consigli pratici ma come si fa a non dare i dati a Google se sono altri motori come ci si fa a dipenderci dalle manipolazioni allora quella manipolazione di Welling che vi ho fatto non è Welling che ha fatto la manipolazione scusate Welling no cioè quella manipolazione che è stata fatta in realtà ovviamente il motore è il nostro browser che la fa e generalmente tutti i browser io qui stavo usando Chrome ma ovviamente vale anche per Safari o per Internet Explorer consentono di fare una navigazione anonima c'è sempre la possibilità di navigare sul web in modo anonimo ora ciascun browser al suo modo di farlo dovete cercare ovviamente dovete fare una navigazione non anonima e cercare il modo con cui farlo con il vostro browser ma poi c'è la possibilità di navigare in modo anonimo questo non vuol dire allora questo vuol dire che la pubblicità di Welling non la troverete su Anza questo è vero ma che la vostra navigazione sia del tutto anonima io non ve lo garantisco ok questo non ve lo posso garantire ma probabilmente un'altra risetta è controllare quello che ci viene detto no? abbiamo Google questo è proprio quello che dico l'uso responsabile dei servizi e quindi questa è veramente l'educazione che dobbiamo dare ai nostri giovani è proprio questo tutto quello ma questo lo facevamo già prima nessuno di noi ha mai creduto alle cose che ci vengono dette a occhi chiusi capitava molto raramente capitava solo se chi ce lo stava dicendo era veramente una persona di cui ci fidavamo al 100% questo deve valere anche in questa società digitale possiamo fidarci fino a un certo punto ma dobbiamo sempre essere sicuri soprattutto a seconda di quanto sia importante la notizia di dobbiamo sempre verificare che la notizia sia affidabile un po' il microfono ecco se c'è qualche velocissimi però scusate perché una domanda una domanda semplice semplice buongiorno è capitato in questi giorni che delle foto di ragazzine siano state usate per motivi molto diciamo non discutibili molto di più per cui visto che proprio in questi cinque minuti fa mi è arrivata una foto di mia nipote su Instagram ora non so su Instagram come vengano considerate queste situazioni però è possibile manipolarle sia su Facebook su Instagram o su altri si usa uno di quelli ora devo dire la verità che questa notizia che lei ha citato adesso io non l'avevo sentita perché credo che sia successa qui a Firenze e l'ho saputa proprio poco prima della conferenza perché me l'hanno detto che era successo questo evidentemente non è stata una notizia che si è diffusa a livello internazionale io ero a Parigi e non l'ho sentita però non è certamente il primo caso che questo accade beh io credo che ci sono di nuovo due componenti una prima componente è chiaramente lo Stato deve intervenire su questo e quindi deve assicurare che se cose di questo tipo non succedono la punizione è estremamente severa e quindi come è sempre successo le leggi servono a questo fondamentalmente per punire questo tipo di comportamenti dall'altro c'è ovviamente il problema dell'uso responsabile del cittadino in questo caso magari può essere anche un adolescente che fa questo ed è questo che è importante ed è qui che dobbiamo veramente insistere dobbiamo educare i giovani a usare queste tecnologie in modo responsabile lei parla di sua nipote ma io ho anche in sala una figlia che è stata un adolescente e c'è una che pur non essendo più adolescente è ancora adolescente come succede per molti post adolescenti e mi rendo conto che fanno delle cose che io dico ma sei sicura di voler fare questo sei sicura di voler veramente metterti in mostra in questo tipo in questo modo e bla 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 però non glielo dico devo dire la verità perché non mi ha mai creato dei grossi problemi però lo capisco benissimo ed è un problema veramente di educazione di spiegare senza io per esempio non credo nel proibizionismo e credo che la storia abbia insegnato che il proibizionismo non funziona però credo che l'educazione può funzionare e che l'educazione data in un modo positivo può insegnare a questi ragazzi a usare d'altra parte è anche vero parlando di foto un po' particolare qui c'è questo famoso esempio di una foto pubblicata su facebook da un adulto a dire il vero ed è la foto della bambina pietramita mi sembra che fugge nuda da un bombardamento credo che per molti di voi che vedete in questa sala sia una foto nota molto nota in bianco e nero fu pubblicata perché era una foto contro la guerra per dire guardate gli effetti della guerra facebook la censurò perché era un nudo di bambina quindi qui per esempio secondo me è questa di nuovo sinergia che ci deve essere fra tecnologia e essere umano ora è vero facebook dice no no noi classifichiamo le foto ma poi sono degli esseri umani che decidono se io non ci credo secondo me una foto classificata come pedofila viene censurata senza nemmeno guardare che cosa sia invece questa è un'educazione verso di noi a dire e lo Stato lo deve fare guardate non può essere solo un algoritmo a decidere una cosa così delicata ci deve essere anche la componente umana che interviene e questo secondo me è anche il modo di pensare a come l'uomo interagirà e si integrerà con le macchine che collaboreranno con l'uomo non è che lo comanderanno buongiorno buongiorno volevo non so se avete una conoscenza in questi ultimi giorni del giornalista tv cinese digitale non so se cosa ne pensa allora l'ho vista ieri questa notizia l'ho vista ieri questa notizia e sinceramente non ho visto il video quindi non so dire esattamente che cosa sia però devo dire la verità io come informatico ovviamente non sono né sorpreso né perplesso né preoccupato credo che una macchina può fare il compito di un speaker televisivo ma come dicevo prima credo molto che ciò deve essere fatto in collaborazione con l'essere umano le intelligenze cosiddette artificiali secondo me devono collaborare con le intelligenze cosiddette naturali veniva solo criticato la faccia di questo giornalista e non aveva sufficientemente espressione questi sono un po' di lifting sono limiti tecnici che verranno sicuramente superati sì buongiorno volevo domandare una cosa in relazione al 5G di cui ho parlato prima se uno mettiamo per motivi etici o per altro non fosse d'accordo con l'impianto di tutte queste nuove tecnologie si rischia di creare un ulteriore motivo di discriminazione fra persone all'interno della società mettiamo il ragazzo si fa impiantare una cosa di genere può trovare lavoro quello non lo fa per motivi etici personali viene tagliato fuori anche per un altro motivo oltre a quelli che ce ne sono già tanti per poter accedere alle varie ambiti dell'esistenza voglio sapere questo che mi preoccupa alquanto sia perché non sono più giovane sia per i giovani in se stessi grazie ovviamente ora questa è una domanda molto è una domanda quasi enorme perché è fondamentalmente è il gap è una domanda sul gap tecnologico che c'è sempre stato da quando l'uomo ha incominciato a sviluppare tecnologia c'è sempre stato questo gap dovuto spesso e volentieri a questioni economiche fra il primo il secondo il terzo e il quarto mondo e quindi per esempio il gap digitale in questo momento è enorme fra il cosiddetto primo mondo e il cosiddetto terzo mondo è veramente enorme e su questo secondo me gli stati in quel riquadro sono lì che gli stati devono intervenire perché lo stato non può pensare solamente all'Italia per esempio lo stato deve pensare all'Europa e al mondo e quindi deve intervenire perché questo gap venga ridotto poi c'è il gap digitale o tecnologico dovuto a aspetti più personali penso per esempio a chi decide che certe tecniche mediche non le vuole usare perché ha delle opinioni che gli impediscono di usare queste tecniche mediche e qui io purtroppo non posso rispondere credo che sia una questione più etica e legislativa su cui penso che però ci sia tanto dibattito sinceramente potrei dire la mia opinione ma preferisco non dirla e credo che sia una cosa di cui dovremmo fare conto e di nuovo sarà una questione veramente di regolamentazione io spero il più generale possibile per questo io sono contento di vivere il sogno europeo perché pensare che le leggi che facciamo in Europa valgono per tutti gli stati europei sinceramente mi fa sentire meglio che pensare che avere una legge che vale solamente per l'Italia cioè pensare che io vado in Francia e mi trovo con grosso modo la stessa legislazione per certi aspetti soprattutto sui diritti mi fa sentire meglio devo dire chi era qui grazie io volevo informazioni sulla il diritto di cancellazione dei dati questo è un diritto incondizionato o la mia richiesta di cancellazione viene posta al vaglio di qualcuno e forse sì forse no grazie e allora il problema all'inizio c'era il diritto all'oblio addirittura quindi il diritto a essere proprio a sparire se uno vuole sparire dalla rete il GDPR è più rilassato su questo ma perché si sono resi conto che non è così facile ottenere il diritto all'oblio perché i dati che io do a una società per esempio potrebbero essere stati trasmessi a una società terza che ne aveva bisogno per fornire dei servizi di quella società quindi queste cose a cascata diventano un pochettino complicate in questo momento se non mi sbaglio quindi innanzitutto nel GDPR il diritto alla cancellazione è più debole che il diritto all'oblio e se non mi sbaglio il GDPR dice che noi abbiamo diritto a questo però la società a cui gli chiediamo ha il diritto di dire guardate però ci sono anche queste società terze che hanno i dati quindi dovete casomai chiedere il diritto alla cancellazione anche a queste società terze e non solo in certi casi potrebbero anche dire di no se ci sono dei motivi di interesse diciamo più generale ci sono delle situazioni in cui la cancellazione può essere rifiutata buongiorno sono uno specialista di database d'altra parte scusi è un pochettino quando noi diamo i dati allo stato per esempio per che ne so avere la carica del codice fiscale o quello che sia non è che poi possiamo dire allo stato cancellami perché lo stato ha bisogno di sapere chi sono dove abito e così via dicevo sono uno specialista di database quando lei prima parlava di livelli di sicurezza hardware e software criptati le confermo che già si fa da anni nel mondo commerciale quello che si fa soprattutto è per proteggere strategie di mercato o dati da fatturare ma poco invece sui dati personali questo mi preoccupa molto quando si va a vedere invece siti di enti pubblici o di agenzie al contorno spesso si scopre che vengono adottati software open source che invece hanno un livello di sicurezza nativo abbastanza blando direi poco più che imprenale e quindi capita di trovare anche dati di rilevanza sanitaria o di scelte in ambito politico personale che invece sono molto più esposti di quanto lo siano dati commerciali e solo ora si comincia a vedere una certa sensibilizzazione in più nei social network è abbastanza noto ormai che con opportune query si possono indagare anche informazioni riservate e personali che uno crede ad aver chiuso solo un gruppo riservato di persone invece sono in qualche modo interrogabili ora tutto questo temo che si diffonda diciamo la conoscenza di come fare non solo agli specialisti come me e che quindi si vada incontro a una apertura involontaria addirittura contraria al GDPR io mi aspetto prima o poi anche una qualche class action in questa direzione lei che ne pensi? ma non so quello che lei dice mi sembra più contributo che una domanda perché ovviamente quello che dice credo sono abbastanza d'accordo è vero ed è un problema di consapevolezza che ancora non è diffusa non solo nella popolazione ma nemmeno in chi è coinvolto direttamente in questi sistemi probabilmente perché ancora non ci sono stati eventi traumatici che hanno giustificato qualcosa più di aumentare questa consapevolezza quindi di nuovo io quello che penso è che è veramente un problema il problema principale è mettere in piedi un sistema di educazione ben fatto in cui le persone che ne sanno come probabilmente lei siano coinvolte nel formare le persone che non ne sanno in modo che alla fine questa consapevolezza si diffonda un pochettino di più credo che questo sia il compito principale e che vorrei che al GDPR segua un'azione di questo tipo il GDPR è qualcosa che nessuno di noi credo abbia letto io ho letto qualche articolo perché ero curioso ma penso che nessuno di noi l'abbia letto abbiamo cliccato e basta invece secondo me il GDPR contiene delle cose che andrebbero veramente insegnate in una classica classe di educazione civica e quindi spero che questo sia quello che accadrà una cosa che voglio dire è che c'è molto attenzione da parte degli specialisti in Italia ora in Europa non l'ho detto ma di nuovo è un'informazione che mi ha donato questo mio collega Enrico c'è stata una call per progetti attiva per due anni proprio unicamente dedicata alla user centric protection quindi la protezione dal punto di vista dell'utente e credo che sia scaduta l'anno scorso ma ci sono stati due anni di call in Italia abbiamo un laboratorio che si chiama Laboratorio Nazionale di Cyber Security che coinvolge praticamente quasi direi tutte le università e quasi tutti i centri di ricerca nazionali e vi invito ad andare anche a visitarlo c'è un libro bianco che hanno pubblicato e rinnovato quest'anno si chiama Laboratorio Nazionale di Cyber Security e c'è ovviamente anche la parte dedicata alla protezione dei dati quindi veramente io credo che la società scientifica questo problema se lo stia ponendo molto forte sta anche a Gioverni collaborare da un punto di vista più civico Salve non essendo uno specialista le chiederei se potesse darci una definizione di intelligenza artificiale perché è una di quelle parole magari come democrazia cioè più o meno si capisce però se potesse un po' definirla meglio grazie ok allora questa è una domanda facile devo dire nel senso che per me informatico la risposta l'ha data Alan Turing nel 1950 per me una macchina è intelligente se e quindi è un'intelligenza artificiale se scambiando conversando con questa macchina e conversando con un altro essere umano non mi rendo conto chi dedue la macchina e chi dedue l'essere umano è una visione molto informatica nel senso che è comportamentista in qualche modo se la macchina si comporta come si comporterebbe un essere umano per me è un'intelligenza artificiale e badate che questa definizione mi evita di dover infetti rispondere alla sua domanda perché se no dovrei definire l'intelligenza e io sinceramente non mi sento di definire l'intelligenza però posso dire che cosa per me cosa io considererei come un'intelligenza artificiale se me la trovassi di fronte buongiorno a tutti come legale diciamo esperto in data protection volevo dare qualche elemento positivo sì allora il primo so per certo che c'è un progetto dell'università di Roma in termini di educazione delle classi dei licei cioè faranno a primavera un ciclo di incontri con docenti specialisti tecnici e legali per formare i ragazzi su social network e dati personali quindi un elemento positivo un altro elemento positivo è una riflessione non è una domanda faccio riferimento a una sentenza senza entrare nel legalese google spain contro costeca parlo dei nomi perché è pubblica in questa sentenza viene condannata google spain quindi si amplia il parterre dei soggetti responsabili nella la sentenza dice google spain è responsabile per la mancata indicizzazione deindicizzazione scusate di una informazione relativa a questo soggetto cosa vuol dire si va verso il diritto all'oblio ma questo è precedente al gdpr già l'unione europea e do un assist al professore in quest'ottica dicendo che l'unione europea è molto sensibile a questo la sentenza dice google spain ti condanno a un risarcimento perché non hai deindicizzato una notizia che ormai era stravecchia e che comunque andava a ledere i diritti di costea ok come ha detto lei è più un contributo che una domanda però lo voglio integrare con due cose innanzitutto sono contento di sentire la notizia di Roma mi fa molto piacere quale università è? Roma 3 Roma 3 ok quindi sono molto contento di questo adattato io sono romano quindi sono felice che siamo all'avanguardia da questo punto di vista ok e quindi sono molto contento di sentire questa notizia e credo che sia la direzione giusta e per quanto riguarda il problema di google spain dell'indicizzazione ha ragione e quindi mi sembra interessante e tra l'altro vorrei integrare anche la comunità europea si sta comportando bene per questo dico noi dobbiamo essere contenti di essere in Europa perché l'Europa da questo punto di vista è molto più sensibile e secondo me è molto più all'avanguardia ora io capisco che ci siano tante persone arrabbiate con l'Europa con l'euro con il deficit con il PIL con tutte queste cose però non dimentichiamoci che ci sono persone di altissimo valore in questo momento coinvolte nella gestione della comunità europea a quello che lei dice si aggiunge per esempio facebook è stata condannata quando acquistando whatsapp ha deciso di collegare i profili whatsapp con facebook perché aveva detto che non l'avrebbe fatto ma era chiaro che facebook stava comprando whatsapp per avere ulteriori dati era evidente questa cosa quindi quando gli disse guarda che tu non puoi collegare i profili whatsapp con i profili facebook non lo facciamo non lo facciamo poi ovviamente lo fece ed è stata condannata ha avuto una multa gli costa facebook di pagare una multa però questo per dire che la comunità europea è molto sensibile su questo tema ed è sempre molto attenta e ricepisce molto le segnalazioni che gli vengono fatte salve lei ci ha parlato di un futuro di un uomo bionico ma dico i poeti dove spariranno perché i giovani non guardano più le stelle e i paesaggi ma sono sempre davanti a uno schermo e sempre di più hanno tutte le antenne che li sbucano ai cervello dico e qui e le stelle dove vanno a finire lei l'ha visto l'ha visto il primo quadro venduto a 400 mila euro credo prodotto da una intelligenza artificiale non è affatto male devo dire non è affatto male è un bellissimo quadro e non lo so io credo che in realtà i poetici saranno quello che succederà e che ci saranno anche i poeti artificiali che scriveranno probabilmente delle bellissime poesie che noi come esseri umani potremo apprezzare e questa è proprio per questo io vedo il futuro non distopico ma utopico se ragioniamo in questa ottica le macchine non so nemmeno se chiamarle macchine o le agenzie artificiali collaboreranno con noi non è che saranno in competizione o ci sostituiranno o ci comanderanno se noi entriamo in quest'ottica io credo che riusciremo a viverci bene riusciremo a scrivere noi delle belle poesie e a leggere delle belle poesie scritte da loro buongiorno scusi una domanda propongo una sequenza cioè fake news fiducia e affidabilità io le domando questa prima lei avrebbe già risposto a questa domanda cioè nel senso noi dobbiamo riferirci a dei siti per valutare se quello che ci viene detto è giusto sincero vero o meno basta questo? beh ovviamente dobbiamo non solo questo è per le notizie chiaramente per tutto il resto anche dobbiamo ovviamente avere questa responsabilità e consapevolezza di quello che stiamo facendo quello che credo è che qui sia veramente importante l'aiuto anche della tecnologia perché la tecnologia ci può aiutare per rendere questi nuovi servizi che sono in qualche modo servizi di affidabilità ai servizi certo uno potrebbe dire ma chi mi rende affidabile il servizio che certo questo è il problema di chi mi dice chi giudica il giudice questo è un problema ovviamente insito nel concetto di giudizio però quello che per esempio si può fare che secondo me i governi in questo senso devono fare è che quando un servizio viene sviluppato in questo modo deve dire esattamente quello che sta facendo chiarendo esattamente quali sono i passi che sono usati per giungere a una certa conclusione certo questo va contro per esempio noi ancora non sappiamo qual è la ricetta della coca cola sappiamo tutti gli ingredienti danne uno ma nessuno ci dice questo ingrediente ma è giusto o non è giusto magari quello è un ingrediente cancerogeno magari stiamo il fatto che con la coca cola possiamo togliere la ruggine da una vite dipende da quello non lo so eppure nessuno riesce a obbligare la coca cola a dirci questo ingrediente sicuramente di questo dovremmo farne conto e lì sarà importante sempre usare un certo senso di responsabilità anche nell'usare i servizi che ci aiutino a usare con responsabilità altri servizi una domanda ormai la chiamo professore lui è mia studente loro due sono miei studenti anche lei no è già passato no l'ha passato l'esame l'ha passato dopo dopo non so quanti tentativi però l'ha passato no al primo le volevo chiedere anche con le tecnologie che già ci sono e quelle che verranno sviluppate verranno impiantate come lei diceva nel corpo non c'è il rischio che anche con l'intelligenza artificiale i concorsi o anche parlo per me gli esami vengano un po' falsificati perché con non so uno si mette gli occhiali o delle lenti vengono mandati in automatico a dei computer con il machine learning questi vengono ci viene data una risposta perché il problema già c'è ora con l'uso dei cellulari il futuro allora penso che se facessi questo deve essersi milionario subito cioè tu immagina sicuramente è possibile ma in realtà già adesso lo potremmo fare con degli occhiali normali possiamo mettere una videocamera metterci un micro auricolare nell'orecchio nessun professore mi potrebbe controllare già adesso questa cosa è fattibile qui entra in gioco di nuovo secondo me l'educazione e prima di dire questo però fatemi dire che la mia prima esperienza a Parigi come professore a parte che è faticosa vi assicuro però a parte questo sono sballordito dal fatto che gli studenti stanno con il cellulare in mano mentre io faccio lezione loro due lo sanno se uno di loro avesse provato a fare una cosa del genere in aula con me qua in Italia è detto va bene vada fuori poi dopo torna dopo che ha fatto il messaggino whatsapp quindi mi sa che da questo punto di vista mi sto immaginando quello che succederà quindi è un discorso veramente di educazione perché uno studia? per superare l'esame? no uno studia per imparare anzi questo che tu dici in realtà dovrebbe spingere forse a dire ok quindi non è forse tanto il fatto poi di saper rispondere a x4 più 2x più 1 uguale 0 il risultato ma il fatto che ho imparato qualcosa che mi aiuta poi a nel mio lavoro quindi probabilmente è vero l'esame diventerà più difficile da controllare allora forse diamo più importanza a quello che stiamo insegnando più che alla verifica dell'insegnamento senta il mio telefonino in questo momento sa dove sono la sera mi dice quanti chilometri ho fatto non è che si va verso un controllo totale che un domani cioè il il datore di lavoro sa benissimo in quel momento cosa stai facendo e come lo stai facendo la moglie sa se tu sei in un albergo invece di essere a lavorare corriamo questo pericolo ok quello che allora ovviamente riguarda la sua moglie non lo so perché io io per esempio non ho mai controllato sebbene potessi perché ero l'amministratore del computer di casa non ho mai controllato la posta di mia ex moglie quindi non ex moglie e nonostante questo forse forse avrei dovuto forse avrei dovuto però non l'ho mai fatto quindi e chiaramente questo è un discorso di di nuovo di educazione di sensibilità e di rispetto dell'altro che tutti noi dobbiamo avere secondo me questa è la cosa importante sapere che noi dobbiamo rispettare le altre persone e in questa nuova società digitale oltre al rispetto fino adesso il rispetto era magari non dare un cazzotto non dare dire le parolacce essere gentili se possibile adesso c'è anche questo non interferire nelle informazioni che queste tecnologie ci danno a disposizione quindi è veramente un discorso di insegnare ai giovani a rispettare questi diritti digitali certo il lei dice il telefonino mi controlla io non vedo questo come un controllo per esempio adesso con il nuovo sistema del io uso un apple un iphone il nuovo sistema mi ha proposto di default il rendiconto dell'attività col telefonino io devo dire a Vida lo trovo una cosa bellissima perché ora mi rendo conto oh cavolo oggi sono stato in media due ore al telefonino al giorno accidenti come ho fatto e quindi ci sto attento e allora sono contento quando poi mi dice la settimana dopo bravo sei il 50% in meno un'ora e mezza dai posso farcela ancora di meglio sono arrivato anche a meno di un'ora a usare meno di un'ora il telefonino al giorno questa settimana l'ho usato un'ora e 35 quindi era un pochettino dispiaciuto però più che controllo di nuovo per me è una collaborazione il telefonino mi sta aiutando a usarlo bene secondo me è proprio uno switch di ah questo e per questo ho messo questo lucido è lo stato che deve proteggerti ah non c'è ombra di dubbio qui è lo stato che deve dire se qualcuno usa i miei dati in un modo innanzitutto come ha avuto i miei dati e poi lo usa anche in modo malevolo non c'è verso la punizione deve essere molto molto severa e qui è lo stato che deve intervenire niente io volevo farle una domanda sull'offerta formativa perché qui sono venuti fuori diversi aspetti della problematica che poi sono anche di carattere giuridico sanitario fisico e quindi le volevo chiedere visto che lei ha questa visione allargata all'Europa se ci sono esperienze o progetti di come dire offerte formative integrate con riferimento alle varie discipline grazie non che io sappia di certo come informatico sono a conoscenza di tante attività perché ed è chiaro che questo lucido lo dice pure per essere cittadino consapevole e fare un uso consapevole di queste tecnologie un pochettino di queste tecnologie le devo sapere e quindi è come se noi volessimo che divenire dei cittadini consapevoli rispetto per esempio ai principi di democrazia senza sapere che nella storia ci sono state dittature non sarebbe possibile perché sarebbe del tutto astratto e quindi sicuramente c'è tanto fervore riguardo all'insegnamento non della specifica tecnica informatica ma dei principi informatici che aiutino un cittadino a capire cosa c'è dietro poi quello che succede certo l'integrazione con quello che io giustamente le dice è proprio quello che io vedo è un'integrazione fra tecnologia educazione civica e storia sinceramente non sono a conoscenza di esperienze in piedi ma spero bene che questo accadrà molto presto bene io vi ringrazio siete stati altrimenti partecipativi e ci vediamo domenica 2 dicembre mangiare sicuri o sicuri di mangiare il dritto al cibo tra garanzia e sostenibilità arrivederci grazie a tutti grazie a tutti